Per me è come tornare un po' a casa, visto che comunque è stata la mia prima squadra professionista, quindi per me è un ritorno a casa, ritorno con due anni di esperienza in più, visto che ho fatto comunque un campionato di Serie C col Pisa e un anno col Perugia in B, quindi torno con un po' più di esperienza e spero di ritagliarmi un po' di spazio in questa squadra. Sicuramente ho trovato un gruppo fantastico, visto che comunque hanno dimostrato anche l'anno scorso di aver fatto qualcosa di importante, quindi trovo un gruppo sicuramente anche più italiano e con tanta voglia di fare. I ragazzi che ci sono sono tutti ragazzi fantastici. Io ho sempre giocato sia a quattro, ho giocato sempre a una difesa a quattro, però l'anno scorso ho fatto quasi praticamente tutto l'anno con una difesa a tre, che poi a volte passavamo a quattro, quindi per me il cambio di modulo è indifferente, io faccio quello che mi richiede il mister. Palermo penso che abbia allestito un'ottima squadra e penso che se arriva ancora qualcuno comunque ci sarà ancora da fare tanto e abbiamo tanta voglia di fare, quindi sicuramente penseremo prima alla salvezza e poi quello che viene sarà tutto di più. Io comunque ho visto Vasquez tre anni fa e sicuramente ha avuto un cambiamento magistrale, quindi sicuramente lui è quello che mi ha dato più nell'occhio, però anche tanti altri ragazzi che erano qua qualche anno fa hanno migliorato molto, quindi Bentivenia che era stato con me in primavera, quindi è sempre stato un ottimo giocatore e si sta dimostrando che può fare veramente tanto. Il mio obiettivo personale è quello di ascoltare e di imparare tanto dal mister e dai compagni e di cercare di ritagliarmi uno spazio più grosso in questa squadra, quindi spero di essere comunque protagonista e di essere comunque un giocatore che venga tenuto in considerazione. Purtroppo quest'anno ho avuto un inizio di ritiro un po' particolare, visto che comunque dopo pochi giorni mi sono fermato per un piccolo stiramento a retto femorale e poi dopo ho avuto anche la febbre, quindi non è che sono partito nei migliori dei modi, però dai, ora sto bene e cerco di stare al meglio possibile. Il presidente Zamparini mi ha dato solo un grosso in bocca al lupo quando sono arrivato, però comunque mi ha dato una grossa dimostrazione nel fatto che comunque ero in comproprietà con la Juventus e ha voluto riscattarmi tutto lui, quindi per me è stato un segno di tanta fiducia nei miei confronti, quindi spero di rifarmi nei suoi confronti. Il mister è un maestro della difesa, è un maestro di calcio, quindi quando spiega sono lì, attento come un alunno a scuola, quindi ho tanto da imparare, non ho mai avuto grossi maestri, comunque non avendo fatto un grosso sito giovanile, quindi spero di stare sempre concentrato e di ascoltare il più possibile il mister.